L'addominoplastica è il termine generico con cui si indica un intervento di plastica all'addome. Possiamo avere diversi casi perché dal più semplice al più grave, il mini addome quando si tratta solo di rimuovere un po' di pelle nel tratto che va dall'ombelico al pube, praticamente la zona dove eventualmente è stato praticato il taglio cesareo, una dermolipectomia addominale quando la quantità di pelle da sportare è maggiore e dobbiamo anche isolare e spostare l'ombelico e il caso più grave in cui si è creata proprio per la distensione della parete post gravidica una diastasi dei retti, dei muscoli retti dell'addome e in questo caso va effettuata anche una plastica dei muscoli.